salve a tutti e benvenuti su plenoctis io sono rob e oggi voglio proporvi la mia recensione di favolacce ho recuperato questo film dei fratelli di innocenzo proprio perché questa sera ci saranno i davide di donatello e volevo recuperare qualche film anche se non sono riuscito a vederli tutti quest'anno visto solo a mamette e l'incredibile storia dell'isola delle rose di cui tra l'altro trovate anche la recensione sul nostro canale ho visto favolacce e devo dire che sono rimasto abbastanza sorpreso di solito non mi piacciono molto i film italiani trovo che in generale siano un pochino tutti fatti con lo stampino tutte storie di persone nei contesti periferici oppure comunque provinciali delle varie regioni in modo tale da far emergere alcuni dialetti solitamente sono quello romano o quello campano comunque quello del sud quelli del sud in questo caso abbiamo comunque una situazione periferica il film ambientato a spinaceto quindi il dialetto è quello romano ma devo dire che l'attenzione e il respiro del film è molto più ampio si va a trattare una tematica che è quello del rapporto fra genitori e figli in particolare fa padri e figli nella situazione nel contesto in cui c'è proprio un gap generazionale che è difficile da colmare e soprattutto difficile da comprendere secondo me la cosa che riesce a fare meglio questo film è proprio quello di mostrare come la generazione dei nostri padri e in generale mi ci metto anche io ma comunque la generazione dei nostri padri sia una generazione che ha vissuto la propria vita probabilmente nella semplicità probabilmente senza riflettere più di tanto alle scelte fatte e questa semplicità questo modo spicciolo anche un po anche nella parlata dialettale emerge totalmente nel film al contrario i figli che pure sono più piccoli e hanno un'età veramente molto bassa si ritrovano anche nei piccoli gesti ad avere una profondità un approccio totalmente differente un approccio fatto di tantissime sfumature che sono sfumature implicite quindi non vengono anche in questo film narrate in maniera totalmente diretta ma se uno li rapporta come vengono narrate invece le scelte dei padri o le situazioni dei padri e dei genitori in generale che vivono la loro vita semplice che vogliono la tranquillità però in realtà non sanno nemmeno loro cosa vogliono e sono sempre combattuti sono sempre persone che si riferiscono alle piccole cose come può essere il sesso può essere il fare veramente piccole cose non godersi nemmeno una vacanza perché probabilmente manca quella felicità quella gioia che loro non riescono ad avere e invece i figli quando anche si relazionano con le altre persone c'è una scena importante in cui c'è un bambino che si interagisce con una ragazza tutti quanti sembrano essere bambini che abbiano qualche problema in realtà non ce l'hanno e la loro relazione il loro legarsi è molto semplice fatto di piccole battute che lasciano però sotto molti riferimenti impliciti che ovviamente non sono raccontati ma che in realtà ci sono e quindi a me come film è piaciuto non si parla chiaramente di un capolavoro non stiamo parlando di un capolavoro perché comunque tutta l'impostazione è riferita a una storia di persone storie familiari la trama è veramente molto semplice e non ha particolari velleità come ormai spesso accade però questa volta rispetto ad altri film come per esempio minari che ho recensito da poco se lì prendiamo una storia molto semplice che non ha veramente molto da dire qua secondo me la complessità tematica c'è ci sono queste tematiche che poi dicevo anche prima che in realtà lo fanno emergere tematiche delle relazioni fra persone varie fasce d'età bambini che crescono che sembrano già più adulti per certe scelte che fanno ma comunque si ritrovano un disagio lasciato da dai propri genitori perché le scelte dei genitori sono state scelte poco ponderate non c'è nemmeno un attacco diretto ai genitori o al padre in generale ma c'è proprio il mostrare come certe scelte siano state fatte veramente con poca lungimiranza con poca profondità mentre i figli hanno tutta una visione del mondo totalmente differente e infatti se noi vediamo i padri parlano in dialetto romanaccio tutti quanti mentre i figli già riescono a parlare in un italiano più corretto paradossalmente i padri sono molto più dediti a fare la braciolata fuori fuori dal porticato di casa più facilmente parlano fra loro scherzando sul sesso scherzando sulle piccole cose sulla loro sulle loro esperienze da di quando erano bambini anche nel crescere questi figli non riescono non possono comprendere davvero cosa stanno passando e infatti i bambini sono molto più silenziosi e si aprono soltanto quando poi parlano con con gli altri con gli altri coetanei della loro età quindi veramente secondo me c'è questo è solo questa tematica però secondo me trattata molto bene tutti gli attori sono messi comportano molto bene e è veramente nel complesso un buonissimo film mi riferivo a minari per esempio c'è fatto che una storia così semplice è stata candidata all'oscar agli academy awards quindi gli oscar importanti secondo me si poteva tranquillamente candidare anche questo che per me è superiore e il discorso che facevo anche quando recensito minari era proprio riguardante il fatto che quel film probabilmente è stato spinto dal fatto che si tratta di un film coreano comunque ad ambientazioni e personaggi riferiti alla corea in questo caso invece abbiamo un film italiano che probabilmente viene trattato come film italiano e basta quando invece meritava almeno lo stesso trattamento forse non è nessuno dei due sono film da candidare agli oscar fai film più importanti dell'anno ma in questo caso devo dire che favolacce non non avrebbe non avrebbe fatto una cattiva impressione proprio rispetto a film come minari che stanno lì perché sono appunto riferiti al cinema coreano tornando al discorso però di favolacce in sé la fotografia è una fotografia buona ma non è non brilla particolarmente quindi non parliamo di una grandissima fotografia e anche la scelta stilistica da quel senso di passato ma ambientato al presente che forse si voleva dare proprio per unire e legare fra loro la generazione appunto dei padri e la generazione dei figli però diciamo che nel complesso ha buone immagini ha buoni movimenti ma niente di eccezionale ugualmente anche la colonna sonora cerca di essere un pochino più elevata rispetto al solito e a dare il ritmo e dare il senso però a volte finisce per utilizzare un po' un po' di stilemia alla lantimos come come tipologia di colonna sonora che a me personalmente non piace molto dà più fastidio che piacere soprattutto se viene utilizzata in continuazione non in un'unica scena e qui più volte c'è la stessa tipologia di colonna sonora utilizzata più volte secondo me non in maniera del tutto brillante però appunto dal punto di vista tecnico siamo chiaramente su buoni livelli anche il punto di vista registrico proprio perché come dicevo prima c'è una visione dietro c'è un focus nel voler portare avanti questo progetto e secondo me è riuscito la trama non è particolarmente complessa ma comunque ci fornisce dei buoni dialoghi realistici soprattutto e una complessiva tematica importante quindi il mio voto per il film è di 73 su 100 proprio a rimarcare il fatto che ci dobbiamo di fronte a un film buono non eccezionale che però è valido proprio perché ha delle tematiche all'interno che sono secondo me interessanti e vale la pena esplorare quindi è stata una visione particolarmente piacevole anche confrontata con i film che citavo prima che invece a me non hanno fatto impazzire sia Mamet che L'incredibile storia dell'isola delle rose non mi hanno convinto particolarmente questo film invece favolacce è un film che per la cultura italiana e per la cinematografia italiana è un film molto positivo ovviamente se voi l'avete visto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate se siete d'accordo con me oppure se non lo siete se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace iscrivetevi al canale per supportarci e noi ci vediamo ad un prossimo video Grazie a tutti